Corriò! T'ha tutta una cosa che l'ho a me e me! Mi scato di sto cazzo di fumo, questa roba non ci arriccheremo mai! Per chi sei socio? Ma che consegna fa? Lichetta! Hai già un tuo problema! Che fai? Bello! Cosa stai mangiando? Tu hai fame? Poi! Hola, che tal mia mano? Ua, io lo sto attraversando in un brutto momento, Alfredo! Ah, per piacere! Stasera ti porto tutto corso! Si è in mano, non mi scuccio! Ma va a fangù! Mi spacco che la bella faccina... ...è la consigna all'animale! Fai scopo! Ti vuoi figliare! Scusa, tutto bene? E a te che te ne fanno! Tu nonna sta morendo! Ha chiesto di mangiare per l'ultima volta delle mozzarella calde calde fatte da me! Dammi qua, gliele porto a mamma! Ma sai pure come si fa? Sì! Ci vogliamo fidanzare! È successo qualcosa? Sapete dove dormite? Ma io non vedo proprio più! Stai in chiaro! Mi porto! Grazie! Però... ...viene una mozzarella! Alfa! Ma dove ci porto? Guardate! Guardate! Avetele portate! Evele sattini nakarra io vi parlo! Grazie a tutti.